A Padova la popolazione in età lavorativa conta quasi 595.000 persone, pari al 63,9% del totale, ma secondo uno studio di fabbrica Padova del centro studi di Confapi si è calcolato che in meno di 20 anni scenderà di circa 99.300 unità. Una popolazione sempre più vecchia ha ovvie conseguenze anche sul mercato del lavoro. In Italia l'età media della popolazione è attualmente di 48,3 anni. È la più elevata tra i paesi dell'Unione Europea e si prevede salirà fino al 51,6 anni nel 2050. L'età dei lavoratori aumenta, ma quello che diminuisce è il loro numero. Questo è il problema, perché con l'aumentare dell'età diminuisce il numero. Quindi già oggi noi abbiamo dei grossi problemi. Tutta l'organizzazione ha dei grossi problemi perché mancano parecchi posti di lavoro. Nel 2027, dal calcolo che abbiamo fatto, nella provincia di Padova mancheranno 50.000 lavoratori. Nel 2041 mancheranno 100.000 lavoratori, che non sono solo lavoratori, sono proprio persone. Perché? Diminuisce il numero degli abitanti. Questo è il vero problema. C'è una crisi demografica molto importante. Non è controbilanciata a sufficienza dall'immigrazione. La società invecchia e il rischio è che verranno a mancare persone da impiegare e i servizi. Nei prossimi 20 anni si ridurrà del 16% la percentuale della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, mentre dovrebbe crescere di quasi un milione di unità la popolazione tra i 65 e i 69 anni, più 27,8%. Questa fascia d'età, per effetto dello spostamento in avanti dell'età attiva e di pensionamento, sarà sempre più presente nel mercato del lavoro, con conseguenze dirette sull'impiego di capitale umano e la disponibilità di competenze specie di tipo digitale. In realtà la mancanza di lavoratori è trasversale, dai lavori più semplici, almeno apparentemente, a quelli più sofisticati. Ci sono meno persone, ci sono meno persone che sono pronte a ricoprire certi ruoli e questo è il vero problema. Confapi Padova chiede dunque che venga rivista la strategia per garantire il ricambio generazionale garantendo la formazione dei lavoratori. E dobbiamo affrontarlo come? Garantendo una maggiore possibilità di accesso al lavoro. Cioè le persone ci sono, ma molte sono donne, per esempio, e per le donne purtroppo non ci sono strutture sociali che consentano l'ingresso al lavoro. Bisogna che i giovani siano formati in modo da poter lavorare, ma anche che i lavori siano pronti a ricevere i giovani che hanno una mentalità diversa e bisogna anche che l'immigrazione controllata, valutata e organizzata vada a ricoprire quei ruoli lavorativi che mancano.